Ecco, datemi uno specchio, uno specchio, uno specchio, tutti gridavano e allora gli danno lo specchio e lei si trova tutta sfregiata la faccia. E si vede? Usavano i particolari primi piani? Vedi? Ah ecco, non primo piano, sempre però... No, non primi piani, ancora i primi piani erano da venire. Sì, sì, ma beh, sì, ma beh... Ma sono venuti subito dopo. Sì.